Il nuovo romanzo di Irving Welch Il nuovo romanzo di prima persona ha vissuto negli anni 70-80 molto di quello che accadeva in quella che era in qualche modo la periferia della swing in London o meglio della post-swing in London cioè Edimburgo ebbene lì veramente ha vissuto di tutto, ha fatto il DJ, il musicista, il tossico in carcere, di tutto ha vissuto Welch e lui ha sempre inserito tutto ciò nei suoi romanzi Il senso di urgenza che c'era comunque nei primi lavori in qualche modo si è andato un po' evaporando e allora in questo romanzo che comunque è divertente, che comunque appunto come dice il titolo è una corsa e come tale va preso, è il primo forse romanzo comico in qualche modo qui In cui quantomeno è preponderante l'aspetto comico e divertente rispetto alla tragedia, alla tragicità, al senso di morte che sono invece principalmente importanti nei suoi altri lavori In cui sì c'è un elemento ironico apparentemente tale, un divertimento superficiale ma che poi nascondono appunto tutto questo baratro assoluto Bene qua c'è meno tutto ciò, i personaggi sono più in preda come dire come protagonista a delle crisi di infomania assoluta, insomma questo protagonista che ha una grande capacità sessuale E' dotato come pochi, altro che Nine Inch, Club Nine Inch per fare riferimenti ad altri personaggi nel mondo della cultura dello spettacolo, lui è un personaggio che come dire ha quello nella vita, fa il tassista e riesce a trombarsi più o meno tutte E allora è un gran bel vivere per lui, certo la droga è qualcosa che lo perseguita, che però con cui ci convive in qualche modo Allora qui veramente c'è di tutto da un certo punto di vista, insomma quindi aspettatevi anche del raccapriccio leggendo le pagine di Welsh Quindi ci sono dei personaggi, l'incesto è il minimo ma insomma c'è la morte, c'è la necrofilia, insomma c'è veramente di tutto Il rapporto fra Eros e Thanatos anche in questo romanzo è centrale per Welsh, qui la morte davvero è una succursale dell'Eros, è una succursale della vita E soprattutto è una compagna letteralmente di vita almeno di un paio di personaggi Però c'è almeno questo senso di urgenza probabilmente, c'è più un divertimento che rimane un po' in superficie rispetto ad altri suoi lavori C'è comunque l'abilità di costruire una lingua ex novo praticamente Allora ancora una volta applausi a chi deve tradurre questi suoi lavori e questa sua lingua perché è veramente pressoché impossibile